La prassi della Chiesa di beatificare e canonizzare alcuni fedeli, laici, laiche, religiosi, religiose, sacerdoti, vescovi, papi, è una prassi molto antica, ma questa congregazione nell'attuale struttura è una realtà alquanto giovane. Di fatto risale al Papa San Paolo VI, il quale nel 1969 separò due realtà, l'attuale congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti da questa congregazione che ora, dopo Pastor Bonos, ha il nome di congregazione delle cause dei Santi. Questa dizione, questa parola dice sufficientemente, immagino, qual è il suo compito, qual è la sua missione? Ecco, sostenere l'attività del Santo Padre nel riconoscimento di questa santità. Il Papa ha scritto un'esortazione apostolica sulla santità e ha usato quell'espressione divenuta famosa, i Santi della porta accanto. Questa è la santità quotidiana che tutti noi siamo chiamati a vivere. Il Concilio Vaticano II ha parlato in un capitolo della Costituzione sulla Chiesa della vocazione universale alla santità. È una chiamata, una chiamata di Dio, quindi anche una grazia, un aiuto che ci viene dato dal Signore. Ma questa chiamata non è rivolta a delle persone eccezionali, a delle persone che singolarmente sono degli eroi. È rivolta a tutti, a tutti noi, questa chiamata di tutti alla santità. È il segno, la grazia di questa chiamata ci viene data nel Sacramento del Santo Battesimo. Tuttavia ci sono delle forme di santità che possono essere proposte come modello ai fedeli per alcune particolari caratteristiche. È evidente che al primo posto anche nella storia della Chiesa ci sono i martiri. I martiri quelli che noi veneriamo anche nel calendario per i quali abbiamo le celebrazioni liturgiche, ma ci sono anche alcuni che anche il Papa Francesco chiama i nuovi martiri o questi nuovi, questi testimoni della fede al giorno d'oggi. Ad ogni modo la testimonianza del martirio è la suprema testimonianza. E proprio in questi mesi la congregazione ha presentato al Santo Padre il parere favorevole dei cardinali e dei vescovi su alcune figure di martiri. In Italia ha fatto molto clamore la figura del giudice Livatino che sarà beatificato nel prossimo mese di maggio. E poi ci sono le altre forme di testimonianza che viene chiamata eroica, ma nel senso che può essere proposta come modello, come imitazione a tutti i fedeli nelle sue varie forme. La prima cosa che si domanda è quella che ci sia la cosiddetta fama di santità, che poi è la vox populi, cioè la canonizzazione non è un processo che comincia dall'alto, è un processo che comincia dal basso, cioè comincia dal sensus fedei, dalla fede dei fedeli che riconoscono in qualche persona, in alcuni, delle realtà che sono imitabili, sono offerte come espressioni di testimonianza di fedeltà a Cristo. E si avvia in questa maniera la fase diocesana. I vescovi sono i primi responsabili dell'avvio di questo procedimento. Se la fase diocesana si conclude positivamente, allora tutta la documentazione viene portata nella congregazione delle cause dei santi, la quale esamina la validità del cosiddetto processo, instaura a sua volta un approfondimento in modo tale che viene portato all'attenzione di teologi, degli storici, all'attenzione dei cardinali e dei vescovi e se il parere è unanime, favorevole, viene portato al Papa.